Oggi siamo con Elisa Ravaggio, una bergamasca doc. Lei conosce 5 lingue, ma noi faremo ovviamente l'intervista in italiano. Ciao Elisa, benvenuta qui da noi a TG Events. Ciao Andrea, grazie mille di avermi invitata. Beh, tu sei una modella influencer, so che sei una brand ambassador di tanti marchi, rappresenti hotel, mondo anche un po' del viaggio. Però hai fatto questa nuova esperienza musicale. Se io ti dico Boom Boom, cosa ti sto dicendo? Boom Boom praticamente è il mio primo brano musicale ufficiale. Uscirà a fine novembre ed è un pezzo pop dance molto carino. Ecco, però io so che non è una prima esperienza, perché tu hai un nome d'arte che riporta alla voglia di cantare. Esatto, il mio nome d'arte è Rap Cat. E' nato alle superiori perché mi ero approcciata alla musica nell'ambito hip hop e rap. Siete in due a cantare, vogliamo ricordare chi canta con te? Sì, certo. Ho fatto un featuring con Dora Lee, che è una grandissima cantante professionista e sono molto contenta che abbiamo lavorato insieme. Ecco Lisa, io qua con me ho VIP Lounge, che è questa bellissima raccolta di brani. Il tuo è la traccia numero 14, Boom Boom. Con noi c'è anche Alex Belli, che è stato nostro ospite e ci ha presentato il suo fantastico singolo Me venga re, boh, spesso che si dica così, e allora non ci resta che ascoltare Lisa. Direttamente dallo spazio con Elisa, Andrea Evans per TG Evans. Direttamente dallo spazio con Elisa.